Oh, Simo, sono giorni che ti stai cercando. Ma Marcio, ma che c'è non dice niente? Come stai? Sto bene. I soldi miei? Che soldi? Come che soldi? I soldi che mi devo aiutare. Che soldi hai dovuto? A parte tua? I 10.000 euro, sì. 10.000 euro, oi. Non c'è stanno 10.000 euro, Marcello. Un po' eccessivo. Simo, come eravamo rimasti? Eh? Se ti servono i soldi, c'ho questi. 3 più 8, vediamo? I spicci di voi donè. Tiè? Simo, lei mi devi dare 10.000 euro. Mi servono. Che è questo, intanto? Mi sono fatto un anno di galera per te. Poi stanno zitto. Vedi che sono cambiato io, hai capito? Non so più quello di prima. Ti vedo, si uscite le palle. Eh? Ti uscite. Guardate. Tira un po' in destra. Tira un po' in destra. Fammi vedere, dai. Fammi vedere, tigre. Ci stanno i soldi, ti è incazzato. No, non mi è incazzo proprio io. Sono calmo. Mi devi dare i soldi. Simo, mi devi dare i soldi. Ah, ma c'è. Dai. Se no mi dai i chiamati alla moto. Non mi metti paura così, però. Così mi metti paura, Marcelli. Parlamo domani. Le vai né. Oh, ma c'è. Si.